Cazzo, è che all'inizio non ti rendi conto, pensi che sia momentaneo, un modo per prendere un po' in giro la vita, ma solo un po', perché tanto puoi smettere quando ti pare. Solo un'altra volta e poi smetti, che magari da domani ti metti a dieta. Solo questa volta e poi mai più, che hai letto che fa venire la care per via degli acidi dell'apparato digerente e poi si può soffrire di gastrite. Quindi solo per questa volta, perché hai mangiato un po' troppo oggi, poi da domani smetti. Questo è quello che succede fuori, ciò che la bulimia ti provoca dentro è un'altra storia. Grazie.